Una filiale a Bruxelles risolve il problema Brexit per i Lloyds di Londra. Il gruppo assicurativo annuncia che costituirà una nuova compagnia europea. L'obiettivo è che la nuova entità sia operativa dal 1 gennaio 2019. Il gruppo trasferirà a Bruxelles circa 100 dipendenti. L'istituzione finanziaria più prestigiosa dell'economia britannica non è la sola a tenere un piede nel vecchio continente. La holding GP Morgan è in trattativa per acquistare un edificio a Dublino. La delocalizzazione è una mossa molto ambiziosa, in particolare per le banche statunitensi e per le grandi banche svizzere di intermediazione. È una fase molto complicata. Per le banche commerciali la mossa potrebbe essere meno complicata perché hanno più spazio di manovra nelle loro decisioni. Anche gli asset management possono spostarsi in modo relativamente rapido la pressione maggiore sulle grandi banche di investimento. Il riposizionamento non risparmia i cieli britannici. L'irlandese Ryanair avverte che senza un piano per l'aviazione civile il Regno Unito potrebbe rimanere senza collegamenti da e per l'Europa nel 2019. E Bruxelles avverte le compagnie aeree britanniche che se vorranno continuare ad operare sulle rute europee dovranno trasferire i loro uffici. Grazie a tutti.